La sciarpa bianco-rossa e i dolci donati a medici e infermieri di Cattinara, il tutto per dire un grande grazie. Allianz Pallacanestra Trieste ha aderito al progetto Take Care Your Doc, promosso dalla Nazionale Artisti. L'iniziativa a favore dei medici e del personale sanitario di tutti gli ospedali con la consegna dei pasti domenicali. Un gesto per ringraziare chi ogni giorno compie sacrifici per combattere le malattie e alleviare le sofferenze dei pazienti. All'ospedale di Cattinara l'ex cestista e ora responsabile del settore giovanile della Pallacanestra Trieste, Andrea Pecile, ha consegnato agli infermieri e ai medici la prima donazione all'insegna del dolce. Sì, perché solo la prima, martedì, ci sarà una nuova visita. Credo che sia una bellissima iniziativa di solidarietà, di sostegno a tutte le forze che in questo momento stanno combattendo fuori dal campo una battaglia ben più importante che non quelle sportive che stiamo combattendo noi sui campi da gioco. Per cui riuscire a portare un po' di aiuto che distraga anche un po' e che dia un po' di sollievo quantomeno alla pancia, visto che è stato un aiuto gastronomico di delizie di nostri sponsor che hanno appoggiato il progetto. Però adesso abbiamo portato soprattutto a parte dolciumi e le cornie, la prossima volta avrà il salato per il pranzo. Insomma, credo che dare in questo momento anche una presenza, un sostegno a tutti gli operatori del settore sanitario sia importante per non farli sentire soli. Dare segnali di condivisione e quindi riuscire a fare una cosa tutti assieme, coordinati, da sempre un sostegno di solidità che in un momento come questo può fare la differenza per non mollare mai per davvero e continuare a fare ognuno il proprio mestiere. Il sentimento di generosità e vicinanza contribuisce ad alleviare le fatiche di medici e infermieri a rinfrancare lo spirito in un periodo di lotta così difficile, dove il supporto della città è più importante che mai. C'è il Covid, ma non solo quello. Tutti gli operatori del settore sanitario devono combattere ogni ora del giorno per far fronte a mille emergenze. I cosiddetti pranzi della domenica non sono altro che il simbolo di questa vicinanza da parte del mondo dello sport, ma in realtà da parte di tutti. Sicuramente è un'iniziativa che noi apprezziamo moltissimo. Questi gesti ci aiutano, ci fanno lavorare meglio, ci fanno sentire che non siamo da soli e ci permettono di coniugare con maggior forza e anche con maggior sentimento, perché questi gesti implicano anche del sentimento che tutti gli sportivi ovviamente hanno e che noi apprezziamo moltissimo nel nostro quotidiano. Quindi veramente grazie.